Perché dovete rispondere alle domande? No, non dobbiamo scendere sul piano personale e bisogna rispondere alle domande per dimostrare quello che si vuole. Noi cittadini vogliamo conoscervi che cosa volete fare voi per Calvizzano, vogliamo conoscere voi i candidati, qual è la vostra idea di politica. Noi dobbiamo rompere i ponti con il passato, ci siamo scocciati di sentire sempre le stesse campagne elettorali.